Timbravano il cartellino e poi sparivano. C'era chi andava in bici oppure a passeggio sul lungomare di Pozzuoli e perfino in vacanza. Nuova operazione contro i cosiddetti furbetti del cartellino stavolta accade nell'area flegrea a Pozzuoli. Dieci presunti dipendenti infedeli che alle 5 di questa mattina sono stati raggiunti nelle loro abitazioni e arrestati dai carabinieri della stazione di Licola. Si tratta di 10 lavoratori del parcheggio comunale di Via Napoli, dipendenti del comune di Pozzuoli e lavoratori socialmente utili. A sette degli indagati è stata contestata l'associazione per delinquere perché non si limitavano alla timbratura per conto di colleghi assenti, ma si erano accordati per collocare i badge di tutti in un cassetto da dove ognuno di loro a turno poteva prenderli per timbrare. Le misure cautelari sono state decise dopo indagini dei carabinieri di Licola di Pozzuoli che grazie a riprese investigative e riscontri effettuati tramite pedinamenti hanno documentato che alcuni dipendenti in orari in cui risultavano al lavoro erano in realtà sul lungomare di Pozzuoli in bici piuttosto che in scooter. Insomma, tutto refertato con video e foto che mostrano quanto facevano i dipendenti invece di essere sul proprio posto di lavoro. Svaghi e passeggiate con missioni relax invece di lavorare. La Procura Generale presso la Corte dei Conti avvierà i accertamenti per stimare il danno erariale e procedere ovviamente al recupero di quanto i dipendenti infedeli avrebbero con il loro comportamento sottratto allo Stato. Poi toccherà all'amministrazione procedere per eventuali sospensioni dal posto di lavoro. Il rischio ovviamente è il licenziamento.